Buongiorno, ben trovati. Sì, mercoledì 25 luglio 2018, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento mattutino per la lettura dei quotidiani. Come sempre, apertura dedicata alle prime pagine dei giornali abruzzesi che troverete oggi in edicola. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara, vedete inquadrata la prima pagina con il titolo di apertura che riguarda la Movida, Movida senza regole, l'ira dei cittadini. Pescara protesta dei residenti di Via Battisti in comune, residenti che chiedono e dicono basta, rumori, siamo proprio in centro a Pescara dove la Movida, soprattutto nel periodo estivo, può creare qualche problema ai residenti. Vedete la foto di centro pagina, nuova emergenza dopo l'amareggiata dei giorni scorsi, tra Pescara e Francavilla il mare mangia gli ombrelloni. Vediamo anche i titoli che riguardano Pescara e provincia, siamo nel capoluogo adriatico, la riserva d'Annunziana, la pineta da salvare. Il comune corre ai ripari e poi un lutto nel mondo dell'imprenditoria abruzzese, a tocco da Casauria Filomusi Guelfi muore ad 80 anni, il patron del vino conosciutissimo anche fuori dai confini della nostra regione. Ci spostiamo di qualche chilometro a Bolognano, piovono massi, scatta il divieto per la cisterna. E poi una notizia che riguarda una tragedia accaduta ad Ateleta, siamo in provincia dell'Aquila, muore a 26 anni schiacciato dall'albero. Il giovane è travolto sotto gli occhi del padre e del fratello. Vediamo anche una notizia che arriva dall'estero, se ne sta parlando tanto in queste ultime ore ad Atene, problema incendi, brucia la capitale, 100 morti, turisti italiani chiusi in hotel. Davvero una tragedia quella che sta riguardando la capitale ellenica. Vediamo anche in basso qualche titolo che riguarda lo sport, in particolare il calcio e poi la pallannuoto. Pescara, suo guerre rinforzo per Pillon, il difensore arriva dall'Atalanta. Intanto è ufficiale, i calendari di Serie B per la prossima stagione verranno resi noti il 6 agosto a Cosenza. Inizialmente la data era stata fissata per il 31, ma tra ricorsi e contro ricorsi ovviamente la Lega è stata costretta a posticipare questo appuntamento. Siamo alla pallannuoto, la Serie A2 maschile, lo spagnolo Molina giocherà nel Pescara che vuole tornare al più presto nell'elite della pallannuoto italiana. Ci spostiamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Vezzano Sulmona, Perdonanza, una pioggia di stelle. L'Aquila ci saranno Cocciante, De Gregori e il musical Jesus Christ. Vediamo anche in alto un titolo importante che riguarda la politica perché è arrivata la decisione del Tribunale dell'Aquila. I 5 Stelle perdono il ricorso. Il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, mantiene dunque i due ruoli di Governatore della Regione e di Senatore della Repubblica. E poi il rapporto IMSS, buone notizie per i pensionati abruzzesi, pensione più ricca per 80 mila nostri corregionali. Vediamo anche, siamo sulla prima pagina del centro dell'Aquila, la fotonotizia che riguarda il Rugby L'Aquila. La nuova società parte l'avventura in Serie A per l'Unione Rugby L'Aquila. Vediamo le altre notizie. Palazzo Centri, il PM chiede l'archiviazione per D'Alfonso e Ruffini. Poi L'Aquila spari in aria per bloccare gli spacciatori. Poi ci spostiamo nella Marsica, da Vezzano, comune, altri tre consiglieri al gruppo misto. Vediamo un'altra notizia. In basso, che arriva da Castella Fiume, Bocconi killer in paese, strage di cani. Con il veleno, una delle bestiole salvata dall'intervento del proprietario. Vediamo anche la prima pagina edizione di Teramo. Del centro, meningite, colpito un altro ragazzo, un 15enne di Martinsicuro ricoverato a Teramo. Non c'è rischio, epidemia. Nei giorni scorsi c'era stato un altro ragazzo che era stato ricoverato all'ospedale, Mazzini, del capoluogo a Prutino. Vediamo anche lo sport in prima pagina con il Teramo, che tiene testa al Benevento. La prima amichevole del Diavolo, ieri a Cascia, uno a uno tra i Biancorossi e la formazione Sannita di De Grazia. Il gol del Teramo, buona prova per la formazione di mister Zichella. Vediamo le altre notizie. Il caso Granzasso, acqua a rischio, inchiesta chiusa, i primi avvisi. E poi, ospedale di Atri, la dimettono e muore due medici indagati. E poi Teramo, scuola Zippilli, rubati di notte. 60 computer. In basso, una notizia che arriva da Tortoreto. Il residenza è ora del comune, immobile e abusivo, assegnato all'ente dopo la confisca. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano Vasto. Vedete questa notizia in apertura. Cambia sesso e chiede nozze in chiesa. Chieti, appello al vescovo forte di una donna diventata uomo. Il Papa Ascolti. A Francavilla il mare mangia ancora gli ombrelloni. Abbiamo visto la stessa foto nell'edizione di Pescara del centro. Andiamo a Chieti per vedere questa notizia che riguarda il comune che mette all'asta 25 immobili per fare cassa. E poi Guardia Grele, torna la Pantera. L'ho vista nella campagna la testimonianza di un agricoltore. Poi Casalbordino, il sindaco vuole il trabocco. Arriva il no della regione. E poi in basso il basket per quanto riguarda lo sport, perché è stato diramato il calendario di serie B del campionato di pallacanestro maschile. I Lecchieti ripartirà da Corato. La terza giornata derby casalingo contro l'amatori Pescara. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. In tribunale la guerra dei decibel. Pescara l'ordinanza sulla movida annunciata dal comune non convince i residenti. E poi Montepulciano ancora a battaglia. La Toscana non si arrende. Andiamo a centro pagina. La cronaca all'Aquila in seguimento folle sparatoria Far West nel capoluogo di regione. Teramo, meningite, caso sospetto all'ospedale. E poi parliamo dell'ex ormai amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Tutto l'Abruzzo con il fiato sospeso. Tante attestazioni di stima sincere in queste ultime ore per Marchionne, abruzzese, famiglia originaria di Cugnoli in provincia di Pescara. Marchionne, nato a Chieti. Vediamo anche la notizia che arriva da Ateleta, la tragedia, giovane boscaiolo ucciso da un ramo. Vediamo anche in alto qualche altro titolo che riguarda gli spettacoli e poi anche lo sport. La perdonanza nel programma Jesus Christ, Cocciante De Gregori, Pescara Jets, gran finale. E poi il rugby, nasce l'Unione L'Aquila per puntare alla vetta. E siamo alla prima pagina del quotidiano La Città. Scoperto un altro caso di meningite, 15enne di Martinsicori in ospedale con una variante normalmente coperta da vaccino. E poi il nuovo ospedale. Voglio vederci chiaro il sindaco di Teramo d'Alberto sul progetto della ASL. E poi la cronaca. Teramo colpo da 30 mila euro alla scuola media Zippilli. Ancora Teramo, cantiere infinito per la rete gas in centro storico. E poi il biglietto unico dei trasporti anche a Teramo. Questa è la richiesta dei sindaci anche sul quotidiano La Città. Ritroviamo la notizia della doppia poltrona di D'Alfonso con il ricorso del Movimento 5 Stelle che è stato rigettato dal Tribunale dell'Aquila. E poi due morti sospette in pochi giorni per problemi al cuore. Otto medici indagati. Lasciamo i quotidiani della nostra regione, almeno relativamente alle prime pagine. Andiamo a vedere invece i quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Strage tra i roghi di Atene. Temiamo 100 morti. Focolai forse dolosi. Il dramma a nord-est della capitale greca. Le testimonianze inseguiti dal fuoco fino al mare. Vedete questa foto davvero impressionante con questa casa circondata da fiamme altissime. E poi, cambiando argomento, noa e le mosine sui migranti. Un'Unione Europea, Salvini e il Premier Conte bocciano il piano. E poi decreto dignità rivolta contro le nuove norme. I 600 industriali veneti. Il governo, dicono, ci rovina. E poi siamo a Repubblica. Inseguiti dal fuoco fino al mare. 100 morti in Grecia. Questa è la notizia che riguarda la prima pagina di Repubblica. E poi pronta la stretta anticorrotti. Il ministro Bonafede. Riforma epocale contro le tangenti. Andiamo a vedere anche la stampa di Torino. Anche qui apertura a quello che sta accadendo in Grecia. L'inferno arriva sulla spiaggia. Le fiamme hanno fatto 100 vittime. E poi Mattarella. Blindatria per prevenire la crisi. Il ministro nel mirino del governo gialloverde. Il colle convoca Conte. I presidenti delle Camere. Rispettare, dice il presidente della Repubblica, i vincoli imposti dall'Unione Europea. Il sole 24 ore. Ilva sul tavolo del ministro Di Maio. L'annullamento della gara. E poi vediamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Rai, Forza Lega, che va a riesumare del Noce. Scrive il Fatto Quotidiano. L'epuratore che cacciò Enzo Biaggi. E poi, Ielo difende Woodcock. Niente scontri fra noi. Si parla del caso Consip. Parla il procuratore aggiunto che smonta le accuse al CSM. E poi vediamo anche sul Fatto Quotidiano. Il titolo che riguarda la tragedia greca. Sospetti di atti dolosi. Atene brucia come Pompei. 74 morti e migliaia di feriti. Ma come abbiamo visto anche dagli altri quotidiani. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Vediamo il manifesto. Le ceneri di Atene. Questa foto impressionante sugli incendi nella parte nord-est della capitale ellenica. E poi in alto il disegno di legge. Il decreto legge dignità scontro al vertice. Con rinvio polemiche in questo caso. E poi il messaggero. Prima pagina nazionale. Apocalisse ad Atene. Vileggianti arsi vivi nelle auto in fila per salvarsi. Tsipras chiede aiuto all'Europa. E poi Rom. La Corte dell'Unione Europea salva i campi illegali. Il Campidoglio. Serve l'esercito. E poi il tempo. Altro quotidiano romano. Intervista al ministro Salvini. Così taglio i soldi. A Rom. E profughi. Vediamo. Libero. Hanno vinto i Rom. Scrive il quotidiano vicino al centro-destra. Vietato sgomberare i campi. La Corte Europea impedisce ai sindaci di far sloggiare i nomadi abusivi. Prima bisogna trovare loro casa. Vediamo anche il quotidiano della CEI. L'avvenire. Tragedia greca. Bruciate 74 vite. Le fiamme cancellano una cittadina. E poi accoglienza a gettone. Piano dell'Unione Europea. 6 mila euro a persona. No. Dell'Italia. Vediamo anche il quotidiano La Verità. Altri richiedenti asilo che menano e struprano il sistema dell'accoglienza. Non funziona. E poi. Disastro Madia. Scrive il quotidiano La Verità. Causa è persa e costi stellari. Inchiesta sull'abolizione del corpo forestale voluta dall'ex ministro. La stiamo pagando. Carissima. Vediamo anche il quotidiano del secolo XIX. Un'apocalisse di fuoco in Grecia. Temiamo oltre 100 morti. Incendie ad Atene. Il sospetto, come abbiamo visto, del dolo. Vediamo anche il quotidiano di Napoli il mattino. L'inferno di Atene. Maxi rogo oltre 100 vittime. Poi Campania. Metà precari. Resterà senza cattedra. Professori posti insufficienti per svuotare le graduatorie ad esaurimento. E questo era l'ultimo quotidiano. Il mattino di Napoli che abbiamo preso in esame per quanto concerne l'edicola nazionale. Ora torniamo alle pagine del quotidiano Il Centro per parlare del rapporto dell'Inps. Pensione più ricca per 80 mila abruzzesi. Buona notizia. Quattordicesima. Ecco il bilancio. Altre 1.200 saranno liquidate a settembre. Per averla bisogna aver compiuto. 64 anni. Vediamo poi in basso. Trasporti locali. Mano tesa alle aree interne. Restano pubblici per ora i collegamenti di Tua, L'Aquila-Roma e Giulianova. Teramo-Roma. D'Alfonso può mantenere i due ruoli. Giudici Aquilani hanno deciso. I Cinque Stelle perdono il ricorso in tribunale contro il governatore e senatore. Il voto ora può davvero slittare al 2019. Ma il Movimento Cinque Stelle va avanti e dice ricorriamo in appello. In basso Anas. La Regione dà la sveglia alle province. Lettera del governatore ai quattro presidenti per sbloccare il ritardo della consegna di 25. strade. Siamo ancora alla pagina regionale del centro. Inchiesta Aquilana al Capolinea. Palazzo Centi. La Procura chiede le archivazioni. Il PM Picuti da parte di D'Alfonso e Ruffini. Nessuna interferenza in debita. Sull'appalto solo doverosi interessamenti derivanti dai compiti di ufficio. Vediamo un altro titolo che troviamo di fianco. Ambiente e vita. Pianella domani il ricordo di Nino Sospiri e Altero Matteoli nel piccolo centro in provincia di Pescara. Domani invece a Pescara il WWF propone la sfida tra scienza e magia. Proseguiamo con un'altra pagina. Si parla di trasporti. Il giorno dello sciopero di Ryanair in Italia. Ma la saga per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara rassicura nessun volo Ryanair. Sarà cancellato. L'ha detto il presidente della saga Paolini. E poi l'analisi che riguarda le auto usate. L'auto piace usata. 33.000 vendite. In sei mesi lo rivela l'osservatorio di Autoscout 24. In Abruzzo tiene il diesel ma cresce anche il segmento eco. Siamo alle pagine delle cronache dalle nostre province. Partiamo da Pescara. La riqualificazione che riguarda la riserva d'Annunziana. Pineta da rilanciare. Ecco il progetto. L'impegno degli amministratori. Tornerà l'acqua potabile dalle fontanelle. Verranno riaperti i bagni con un anfiteatro e percorsi per disabili. Ieri c'è stata la presentazione di questi lavori che sono già partiti da una settimana. Noi eravamo presenti con le nostre telecamere proprio dinanzi. L'ingresso della pineta d'Annunziana dove si è tenuta questa conferenza stampa. E poi all'interno dell'Aurum proprio nell'area riservata alla pineta d'Annunziana. Possiamo andare a vedere dunque il primo servizio. Sicuramente il teva è la parola chiave inclusività. Ed è per questo che il comune di Pescara ha vinto questo progetto europeo. Un fondo Fars che poi è stato gestito dalla regione per 315.000 euro. Questi 315.000 euro creeranno dei percorsi che saranno diversificati per le piste ciclabili, per i percorsi protetti per i diversamente abili, e che creeranno delle zone di sosta per poter ammirare la biodiversità di una riserva. È importante sapere che in questa occasione noi riusciremo anche a rimettere le panchine che si sono ammalorate, cercare di riaprire le fontanelle che sono state tanto richieste dai cittadini di Pescara, ma che sono state chiuse perché l'acqua non era potabile. Quindi sono stati chiusi anche i bagni nell'interno della riserva, sostituiti da bagni chimici. Questi lavori che dovranno procedere con una certa accortezza, perché voglio ricordare che CIT si trova in una riserva e non in un parco pubblico, per cui nella riserva ci sono delle zone che sono interdette al calpestio, e solamente una sienteristica che sarà rivista con materiale naturale potrà permettere alcune zone di essere visitate, ma altre proprio non possono essere visitate. Nella riserva abbiamo ripiantumato il Pancratium Maritimum, cioè il giglio bianco che è fiorito, se avete la possibilità di... Io ho detto che è nato il giglio bianco, è fiorito il giglio bianco nella riserva, e quindi la riserva sarà attenzionata di ogni cura con questo restyling delle greenways. Viverle significa un onnocio al loro ecosistema, pertanto sulla riserva d'Annunziana e per apprendere il proprio tesoro naturalistico, si è pensato di organizzare l'attuale sistema base di percorsi che attualmente ha la riserva, in quattro percorsi, principalmente sono un percorso protetto, un percorso salute podistico, e un percorso ciclabile e un percorso naturalistico. Abbiamo pensato anche, con riferimento alla mobilità protetta, per dare possibilità alle persone in difficoltà motorie di muoversi tranquillamente all'interno della riserva, tramite dei veicoli 4x4, che quindi garantiscono sicurezza nell'andare, nel proseguire verso l'interno della pineta. Andiamo avanti, siamo sempre alle cronache di Pescara sul quotidiano del centro, rudere sulla riviera, il proprietario chiede 6 milioni e mezzo di euro al comune, Tintorelli si rivolge al tribunale per il risarcimento dei danni, mi hanno bloccato il cantiere per 13 anni, ora pagheranno. Poi vedete di fianco un'altra notizia, con le dichiarazioni del capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Marcello Antonelli, che dice che il Museo Colonna sarà privatizzato. Andiamo a centropagina, Sant'Andrea, colena chiusa da oggi, ecco i divieti per la festa, stoppa la circolazione, anche su un tratto del lungomare di Pescara per la festa di Sant'Andrea. La protesta in comune via Battisti esplode la rabbia dei residenti, fallisce la trattativa con il sindaco, i cittadini pronti ad azioni legali, contro i rumori della Movida, un'ordinanza non basta. E arrivano i 30 vigili per l'estate in servizio dal fine settimana. E poi la notizia che riguarda il lutto nel mondo dell'imprenditoria abruzzese è scomparso. Filomusi Guelfi, un vignaiolo autentico, il noto produttore di vino di Tocco da Casauri, aveva 80 anni, oggi funerali, lascia la moglie, i figli Alessandro e Giovanna alla guida dell'azienda Vitivinicola. E poi vediamo altre notizie, pronto soccorso e proteste, altra giornata campale. E poi via Riosparto, nel quartiere San Donato di Pescara, spacciava vicino all'oratorio arrestato un giovane 24enne nigeriano. E poi delitto, bevi l'acqua, Mancinelli e complice, in aula le ragioni del legale della famiglia del ragazzo ucciso che si oppone alla richiesta di archiviazione. Andiamo a vedere un'altra pagina della cronaca di Pescara, è nato il Giardino Incantato, l'installazione permanente dell'artista Franco Summa, inaugurata nel nuovo complesso Caldora. E poi in alto, è statica al porto turistico, tre giorni di musica country e danze caraibiche. E poi, vedete in basso, basket a Marcord a Pescara, gli ex ragazzi dell'amatori si ritrovano dopo 40 anni. Montesilvano, lavori al via, via San Francesco cambia, basta toppe, arriva l'asfalto, è sempre Montesilvano, gestione dell'emergenza in arrivo, 100 mila euro. Sempre nella città adriatica, via Livenza, spariti i cassonetti, restano i rifiuti, c'è il porta a porta, ma qualcuno lascia l'immondizia in strada. E poi, per quanto riguarda la viabilità ed eventi di protezione civile, il sindaco di Montesilvano Maragno annuncia che gli aggiornamenti arriveranno anche su Telegram. Noi rifiuti provenienti dai comuni del Pescarese, città Sant'Angelo, incontro pubblico di Sinistra Italiana, articolo 1, liberi uguali sul futuro della piattaforma di stoccaggio dopo la fusione tra Linda e Attiva. E poi a città Sant'Angelo, cambio all'iper, assemblea in teatro. E poi, ex commessa, 51 anni, non trovo lavoro, Montesilvano separata con un figlio, la donna da due mesi aspetta l'aiuto del Comune per le bollette. Francavilla, nuova emergenza, ripascimento beffa, il mare torna a divorare la spiaggia, espone la rabbia dei balneatori contro il Comune, oggi riunione d'urgenza per chiedere sabbia e scogliere. E poi, Pianella, i soccorritori ricordano Andrea, associazione da tutta Italia per l'alpino scomparso dopo Rigopiano. E poi Galilei, festa per sei pensionamenti all'Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino. Vediamo anche le notizie che arrivano dalla Baltavo e dalla Val Pescara. A Bolognano piovono massi di vieto per la cisterna, il sindaco di Bolognano vieta l'accesso al sentiero che porta la pozza d'acqua. Ad estate, meta di migliaia di visitatori. E poi, addio alla sposa bambina, vedova di Marsinelle. Laura Di Pietro si sposò per procura con il marito Camillo, minatore in Belgio. E poi, la notturna pennese, importante manifestazione podistica che si tiene ogni anno a Penne. Sfida per 500 corridori. Sabato, la carmesse di 10 km nel centro storico. Il via alle 21 in premio. Prodotti tipici vestini. Tra l'altro, una manifestazione targata WISP che seguiremo anche con le nostre telecamere. Siamo a Chieti. Cambia sesso e chiede le nozze in chiesa. il caso della donna diventata uomo. Appello al vescovo forte. Poi, Unidav, l'Ateneo va avanti con il nuovo CDA. Università Telematica. Il presidente Barbato. Bene i controlli della procura. Chiesti dal rettore. E ci spostiamo a vasto. Folla, all'addio della farmacia morta in casa. Chiesa di Stella Maris e Gremita per l'ultimo saluto. Le amiche. È soltanto un brutto sogno. All'asta 25 immobili comunali. Ci sono l'ex Eden e tre centri sociali. Siamo a Chieti. Nella lista anche sei terreni agricoli e sette appartamenti, oltre a molti locali, in tutta la città. E poi Chieti Scalo. Allarme sul raddoppio della ferrovia. E poi ci spostiamo a Civita Luparella. Cava, sospesa la richiesta di proroga ad Atessa. Rubano nella pizzeria, dove lavorano in basso Casalbordino. Il sindaco vuole il trabocco. No della regione. Infine Guardiagrele. Una pantera nel campo dietro casa. Lo dice il parrucchiere Mariani. Teramo. Il caso Gran Sasso. Acqua a rischio. Primi indagati per inquinamento ambientale. Firmato l'avviso di conclusione dopo oltre un anno di lavoro. Massimo riservo sui contenuti. E poi la storia con la mobilitazione ambientalista dopo i giorni dell'allarme. In basso, Gomer, nominato un perito. Il processo al gruppo di Notaresco. La decisione del Tribunale nel procedimento per evasione fiscale. E poi all'Università di Teramo. Vedete la notizia con corredo di foto. Luciano Monticelli si laurea con 110 e lode. Il consigliere regionale ha discusso la tesi in diritto internazionale. Auguri dunque per questo prestigioso traguardo al consigliere regionale Luciano Monticelli. Siamo a Martinsicuro con un altro ragazzo che si ammala di meningite. A 15 anni è stato ricoverato al Mazzini di Teramo lunedì sera. La diagnosi, il morbo è di tipo diverso dal caso di Giulianova. E' sicuramente meno grave. E poi Giulianova messo ai domiciliari dopo l'arresto. Il senegalese sono sconvolto dopo una falsa accusa di stupro, dice. E poi in basso, Teramo, case popolari, esercito di morosi. Mette in crisi l'Ater. Siamo alla pagina che riguarda la provincia di Teramo. Partiamo da Atri, il titolo in alto. La dimettono dall'ospedale Muore. Due medici indagati per il decesso di una donna di 54 anni. Ieri eseguita l'autopsia. E poi Silvi trova in casa una ladra e la fa arrestare. In basso, Pineto, aria protetta, non si può tornare indietro. Il presidente Cantarini, l'unica strada da perseguire, dice, è il turismo sostenibile. Siamo all'Aquila, far west a Pettino. Colpi di pistola per fermare gli spacciatori. Due albanesi bloccati dalla squadra mobile. E poi uffici territoriali per la ricostruzione. Il nuovo sciopero dei 72 lavoratori. In bagno, in basso, scusate, rassegna ovina. Fronte contro il rinvio. Il consigliere regionale Pietrucci dice, regione d'accordo su una riunione urgente. Oggi summit in camera di commercio. E poi, torniamo a parlare della tragedia accaduta da Teleta. Muore a 26 anni, schiacciato dall'albero. La vittima è Nico Mastropietro. Deceduto sotto gli occhi di padre e fratello. Era assessore comunale a Balsorano. Perdonanza è giallo. Ora sulle dimissioni. Il sindaco dell'Aquila Biondi dice che non sono state presentate. Poi ammette che è finito il lavoro di Cavalieri e Zimei. In basso, grotte di stiffe. Pronte per il brand Abruzzo. Sinergia tra regione e comune. L'assessore al turismo regionale di Ignazio ha visitato il sito insieme al sindaco Cappelli. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. Partiamo dal report di Lega Ambiente. Incendi, boschivi e rifiuti. Le mire delle eco-mafie. E poi d'Alfonso, respinto il ricorso sull'incompatibilità presentato dal Movimento 5 Stelle. Siamo a Pescara. Movida selvaggia. L'ora delle denunce con i cittadini residenti che si sono recati in comune per parlare proprio di queste problematiche che riguardano la zona della Movida, del centro di Pescara. E poi burocrazia e sanzioni leggere tolgono efficace ai controlli. In basso, riserva d'Annunziana, restyling con il progetto Greenway. Abbiamo visto poco prima il servizio sulla presentazione dei lavori. Tintorelli, 15 giorni per demolire nuova diffida dell'edilizia comunale all'imprenditore per l'ecomostro della Riviera. Il caso ieri in commissione, l'edificio andrà demolito e poi ricostruito più basso di due piani, hanno detto gli uffici e l'assessore scotolati. E poi in manette un rifugiato nigeriano spaccia a minorenni vicino all'oratorio. E poi il giardino incantato, i colori di summa, per il grattacero opera della Caldora. Vediamo anche un'altra pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. La cronaca giudiziaria, la procura difende i killer di Antonio. Nuova udienza ad alta tensione per il caso dell'uccisione del giovane Rom di Bevilacqua. Il GIP chiamato a decidere sull'archiviazione del presunto complice protesta la mamma della vittima. In basso parliamo dell'addio a Filomusi Guelfi, il signore del vino. E poi a Montesilvano torna l'asfalto in via San Francesco. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila, del quotidiano il messaggero dell'inserto abruzzo, oggi in edicola. Inseguimento e sparatoria tra case, ciclisti e bambini è accaduto proprio nel capoluogo di regione. E poi lavoratori nuovamente in sciopero per quanto riguarda l'unità territoriale della ricostruzione, presidio a Roma davanti a Montecitorio. E poi campo imperatore, c'è da salvare la rassegna degli ovini. Vediamo anche un'altra notizia che ritroviamo nella parte bassa della pagina, una notizia importante, tasse, scontro, pezzo pane d'eramo in Parlamento. Si parla della vicenda della restituzione delle tasse, che passa anche per il mille proroghe e per la legge di bilancio. Dunque c'è questo scontro tutto aquilano in Parlamento. Possiamo andare a vedere il servizio. Onorevole Pezzo Pane, decreto terremoto approvato ma bocciati tutti gli emendamenti. Quali saranno a questo punto le vostre prossime iniziative? Perché lei lo ha detto più volte, manca tanto. Insomma, erano emendamenti, secondo lei, ben costruiti, che potevano risolvere definitivamente le questioni, una su tutta quella delle tasse, e invece si va avanti a suon di proroghe. Chiaramente continueremo a batterci perché le cose proposte trovino spazio dentro i provvedimenti normativi che sono stati annunciati, perché su molti dei nostri emendamenti, pur avendoli bocciati, hanno dovuto darci ragione, anche perché alcuni di questi erano addirittura stati annunciati nella fase in cui le forze politiche facevano la campagna elettorale come imminenti iniziative legislative. La questione più grande è quella delle tasse. Io ho presentato l'emendamento che si era deciso al tavolo, anzi due diverse formule tecnicamente irreprensibili, che però sono state bocciate. Ci riproveremo. La cosa importante però è che la proroga che è stata data con il decreto, io ritengo una proroga insufficiente di soli 60 giorni, peraltro con un passaggio nel mese di agosto in cui è ovvio difficile trattare queste questioni con l'Europa e sarà insufficiente, quindi ho chiesto già un'altra proroga nel mille proroghe. Poi ci sono le questioni riguardanti i dipendenti della ricostruzione, su cui avevamo lavorato per un emendamento. C'è la grande questione dell'equiparazione con il terremoto 2009, mi riferisco al 2016-2017, l'abbattimento al 40% delle tasse, tutte cose che mi sembravano scontate perché erano state annunciate anche da Lega e da 5 Stelle che poi invece sono state bocciate. Noi ci batteremo perché la missione della ricostruzione sia nel cratere 2009 che nell'altro cratere è una missione di questa legislatura e della nostra vita. Queste le dichiarazioni della senatrice Stefania Pezzopane. Noi ci fermiamo ora per qualche attimo. Tra poco torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Eravamo le pagine dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Siamo ancora alla cronaca dell'Aquila per parlare della perdonanza degli eventi legati degli appuntamenti clou della perdonanza tra musical e grandi interpreti della musica italiana. Possiamo andare a vedere a tal proposito il servizio dei nostri colleghi della redazione Aquilana. Riccardo Cocciante e Francesco De Gregori sono solo alcuni dei big che faranno tappa all'Aquila in occasione della prossima perdonanza celestiniana. Spettacoli non preconfezionati ma cuciti per la città e dunque unici nel tema della famiglia e della riconciliazione, filo conduttori di questa edizione per riavvicinarsi alla sobrietà e alle origini. Il lavoro artistico mentre procede l'iter per la candidatura a patrimonio materiale dell'UNESCO è stato di grande qualità, con al centro il tema del perdono. Il fuoco del morrone arriverà quest'anno a Colle Maggio dove ci sarà una sorta di teatro del perdono con spettacoli che rispetteranno però la sacralità del luogo e un palco davvero minimal. Sarà una cerimonia di attesa, infatti quella del 23 agosto con l'accensione del tripode che apre la settimana di eventi. Lisa sul palco e voci recitanti come Flavio Insin e Loredana Bertè. Il 24 in Piazza Duomo un altro grandissimo evento, la chiusura del tour mondiale di Jesus Christ Superstar con l'attore famoso in tutto il mondo, il Gesù originale per capirci lo statunitense Ted Nidei. Il 25 agosto il maestro Riccardo Cocciante racconterà se stesso, narrando anche ricordi dell'infanzia legati al territorio, lui è di Rocca di Mezzo. Due spettacoli prodotti interamente, questi primi due all'Aquila cuciti addosso alla città con un'orchestra di 50-60 elementi con Cocciante, giovani del Conservatorio Casella. Il 27 l'Aquila suona una specie di isola suonante come accadeva in passato, con eccellenze locali e musica di ogni tipo. Il 28 agosto l'apertura della Porta Santa con la sera in Basilica una veglia particolare da mezzanotte fino alle 6. Autorità, personaggi del mondo dello spettacolo, il sindaco, i cittadini, leggeranno passi della Bibbia con musica antica intermezzare. La grande chiusura sarà affidata ad un artista che non ha bisogno di presentazioni, Francesco De Gregori. È la chiusura della perdonanza, è la chiusura di un progetto che dura da tre anni, una chiusura di qualità. Abbiamo detto che la perdonanza ha dei tratti spirituali, dei tratti di riflessione, dei tratti di cultura e dei tratti ludici. Quindi, come avrete capito, ripercorriamo con un certo equilibrio, una certa sobrietà tutte queste caratteristiche. Il corteo, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, sarà un corteo sobrio, non una sfilata ma neanche una processione. Sobrietà non vuol dire tristezza. Si darà grande rilievo ai territori quest'anno ma anche ai quarti cittadini. I comuni nel corteo non sfileranno più in ordine alfabetico ma con il quarto di appartenenza. La nostra intenzione non era quello di comprare pacchetti preconfezionati di grandi artisti ma coinvolgere grandi artisti con le eccellenze del territorio. Quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della nascita del nostro conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila. Così parteciperà quindi in una grande esibizione con il maestro Riccardo Cocciante. E poi ci sarà invece nella cerimonia di apertura la grande nostra orchestra, l'istituzione sinfonica abruzzese. Parliamo ancora di eventi, musica seicentesca con Ciuffa e Fioravanti. L'appuntamento organizzato dalla Barattelli a Paganica domani tocca a Edoardo Bennato. E poi il tributo della Arbace alla coraggiosa Bucarelli oggi al Munda. E poi nelle Newtown dove dal 2009 non c'è mai stata una serata d'estate. Proseguiamo, arriviamo alla pagina della Marsiche dell'area Peligna. Ritroviamo in apertura la tragedia di Ateleta. Cade tronco, boscaiolo muore a 26 anni. E poi Avezzano, non fu truffa, assolto noto avvocato marsicano. Pesco Costanzo, canale trasformato in fogna nel parco. E poi ancora Avezzano, consiglio stravolta la composizione politica. E poi ancora tornando nella città marsicana, restando ad Avezzano, mercato del sabato, incontro in comune. Spostiamoci in Valle Peligna, Sulmona, giostra, i cavalli danzano, suon di musica. Lavori bloccati anche al Capograssi, sempre a Sulmona. Siamo a Chieti, transa accoltellata dal dentista, indaga anche il RIS di Roma. Si apre un nuovo capitolo nell'inchiesta sul festino a base di sesso e cocaina. E poi nasce la Casa della Cultura, arrivano anche i nomadi, Emiglianico torna a risplendere l'antico edificio delle suore, eventi e musica con i big. E poi Giardino delle letture a Palazzo Zambra, notte di cultura. Spostiamoci in basso, parliamo di scuole, due silinido al comune, via libera, scongiurata per quattro strutture. La gestione ai privati, dei 5 stelle, dubbi su Chieti, solidale. E poi le selezioni Miss Italia, la Rosselli, Michela Rosselli, 19 anni, di Crecchio, vince la tappa, una tappa di Miss Italia. Con il fiato sospeso per Marchionne, dalla Sevela, i sindacati a Confindustria, tanti attestati di vicinanza al manager Chietino. In lotta per la vita, gli interrogativi sul futuro dell'automotive in Abruzzo, con il cambio di vertice di Fiat Chrysler Automobile. I ricordi del cugino Paolo. E poi ci spostiamo a vasto incidente, con quattro feriti sulla circonvallazione ad Ortona, Santa Caterina e Cappella del Crocifisso, aperte per il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Siamo alla cronaca Tessa, pizzaiolo e cameriere in fuga con gli arredi del locale. Sono stati presi dai carabinieri. E poi, basto, code e incroci. Vedete il titolo in basso. Pericolosi, due semafori sotto. Accusa, Carpineto Sinello. Liquami sotto sequestro. Un allevamento di maiali. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Meningite, ancora un caso, 15enne ricoverato al Mazzini. E poi, la denuncia, ricoveri non ecografie, odissea al pronto soccorso, la sala d'attesa dell'ospedale di Teramo. La battaglia dei sindaci, sì al biglietto unico, no alla tratta per Roma commerciale. E poi, in basso, il caso, disabile non timbra il ticket, multa di 53 euro. Serpenti e topi dalla casa abbandonata. Siamo a Giulianova, i vicini lanciano l'allarme e chiamano in causa l'ASL e il Comune perché intervengano a bonificare tutta l'area. Santuario della Madonna dello Splendore, purificata l'acqua benedetta, ok dell'arta. E poi, la cronaca, sempre da Giulianova, minaccia di sgozzare i figli. Papà non andrà in carcere. Pista ciclabile, insicura, è usata come discarica. È piena di pattume, pezzi di metallo e poi cartacce, plastica, vetro e quant'altro sparso sui prati. Questa è la denuncia che arriva dalla Val Vibrata. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo attendere però per andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Vediamo di andare a leggere insieme la pagina che riguarda la cronaca regionale. La doppia poltrona rigettato il ricorso del Movimento 5 Stelle. Il Tribunale accoglie la tesi di D'Alfonso. La scelta deve arrivare dopo la convalida della Giunta per le elezioni. Vediamo in basso Campo Imperatore. Sì, alla sicurezza. Ma salviamo la rassegna degli ovini. Pietrucci, consigliere regionale del Partito Democratico, chiede un tavolo dopo il rogo dello scorso anno. Il nuovo ospedale. Siamo a Teramo. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, vuole vederci chiaro. Non può essere un'operazione di lobby infrastrutturale. Va discusso il progetto sanitario e il destino del Mazzini, ha detto il primo cittadino. In basso, Via Longo e Campi Sportivi. Adesso si cambia l'amministrazione Vara. Due provvedimenti annunciati nei giorni scorsi. Colpo notturno alla scuola media Zippilli. Siamo a Teramo. I ladri entrano dalla villa comunale e portano via contanti e 60 computer. Portatili, bottino, 30 mila euro. Per le regionali, idea ricomincia da Teramo. Il movimento del senatore Gaetano Quagliarello si ristruttura con un'assemblea dopo lo strappo dei Dalmati. Campi, anziana dispersa, trovata grazie a Felani, il segugio della Croce Rossa. Dunque, questa notizia con questo ritrovamento, con il lieto fine. Cantiere infinito per la rete del gas in centro. Siamo ancora a Teramo in questo caso. I lavori ai sottoservizi vanno avanti da oltre un anno, ma procedono in maniera diversa a seconda della zona. Vedete le foto. Due morti sospette per problemi al cuore. I familiari denunciano e i medici finiscono sotto inchiesta. Tra Teramo e Atri, otto i camici bianchi indagati. Provincia, tutti in difesa della Giulianova Roma. La tratta deve restare pubblica. I sindaci d'Alberto e Mastromauro in regione per estendere il biglietto unico. In basso, cinque comuni terramani premiati nel progetto Comuni Ciclabili. Al via la manifestazione è nata per incentivare l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Meningite, un altro caso a Martinsicuro. Giovane di 15 anni ricoverato al Mazzini di Teramo, questa volta non è però meningococco. E poi, Nereto, il gestore taglia internet e telefono al comune per le fatture non pagate. E poi, Cronaca, finisce in carcere la donna ubriaca che investì e uccise un uomo. E poi il commercio, con la grande I che lascia il centro commerciale di Colonnella, all'annuncio della CGL, i tre punti vendita abruzzesi andranno al Conad Adriatico. Vediamo di andare a leggere insieme un'altra pagina del quotidiano La Città. Ci spostiamo a Giulianova, fermo biologico anticipato a metà agosto. Pescherecci fermi in porto 15 giorni prima rispetto allo scorso anno. E poi vediamo un'altra notizia che arriva sempre da Giulianova. Conto non pagato per la custodia degli atti giudiziari all'ex tribunale. E' sempre Giulianova, ciclo di incontri dedicato alla fotografia contemporanea in basso. Cronaca giudiziaria, droga e distorsioni. Gli indagati restano in carcere. Siamo alla pagina di Roseto, disabile multato sulle strisce blu. Azione politica riaccende la polemica sugli stalli a pagamento. E poi presa dai carabinieri dopo aver rubato in un appartamento a Silvi Marina. In basso restiamo compatti all'opposizione contro l'amministrazione PD, Casa Civica. Siamo sempre a Roseto, riunisce la segreteria comunale, smentisce i rumors circolati su un'eventuale divisione interna. Parco Marino, siamo a Pineto, dialogo con gli operatori turistici scontenti, mano tesa da tutti gli amministratori durante i festeggiamenti per il compleanno dell'area marina protetta del Cerrano. E a Pineto, Colle Morino ancora senza illuminazione pubblica. E marcia a piedi l'attacco del gruppo Pineto 2.0, che torna a criticare l'amministrazione comunale per le mancate promesse. Cultura, notte farnese per i big della premiata foneria Marconi. La band di Friends di Cioccio sarà in concerto al Camplin Music Festival. Si parte venerdì. E andiamo a vedere ora un'altra pagina che riguarda la cultura. Ora così il killer diventa giustiziere, le spose sepolte, Marilu Oliva a Silvia Pescara, per presentare il nuovo spettacolo, il nuovo noir con il suo libro. Vediamo ora un titolo che riguarda la bellezza, Miss Grand Prix, altri titoli per l'accesso in finale. Vediamo se possiamo recuperare le pagine relative agli altri quotidiani. Così andiamo a vedere i titoli che riguardano in questo caso lo sport in chiave Pescara. Per parlare del mercato biancazzurro con gli acquisti delle ultime ore in casa Pescara. Abbiamo un attimo un problema al nostro tablet. Dunque attendiamo di recuperare la pagina che riguarda il quotidiano, il centro. E poi chiuderemo anche con i titoli che riguardano i quotidiani sportivi nazionali. Ecco qui la pagina del centro con il titolo che riguarda il Pescara. Ma dobbiamo ancora attendere qualche attimo per ricaricare tutte le prime pagine dei nostri quotidiani. E poi andremo a vedere la pagina sportiva. Partiamo dal centro. Ecco qui la pagina che vi dicevo. Pescara, ecco, sua guerre in arrivo dall'Atalanta. Dunque vi dicevo, mercato con i biancazzurri molto attivi. L'esperto difensore ex Cesene Avellino alla corte di Pillon. Fornasiere è un passo dall'addio e nel mirino degli olandesi del Fortuna Sittard che militano nella Aired Device. Poi vediamo un altro titolo che riguarda il Pescara. Proietti ai saluti, sempre mercato. Il Cosenza ci pensa. Iamga al Chaterrault. In arrivo il terzino scalera ex Bari che verrà girato al Fano. Altre notizie che riguardano la Serie B. I calendari slittano al 6 agosto. Poi Bari Avellino fanno ricorso per riottenere la Serie B. E poi oggi il raduno della primavera del Pescara allenata da Zauri. E poi il mercato delle altre squadre di Serie B. Tris, Peptovic, Asenzio al Benevento. Vediamo l'altra pagina che riguarda il Pescara. Con una giornata di svaghi e scherzi. Non solo gole e corse per i biancazzurri a Palena. Questo nel giorno di riposo. E poi il Teramo. Un buon Teramo che ferma l'ambizioso Benevento. Uno a uno nell'amichevole di Cascia. A primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa il botta e risposta. Letizia, De Grazia, Zichella, Lancia, l'ultimo arrivato Ranieri. In cabina di regia. Fior d'Aliso in bilico. E poi vediamo altre notizie. L'Aquila corsa ostacoli per la D. Il Pineto si prende e pane Casio. E poi l'Avastese. Oggi il raduno. Ieri la presentazione della squadra. Il club ha fatto il massimo. Ora tocca alla squadra e ai tifosi. E poi entusiasmo al Via. Si parla del Nereto. Nereto che merita l'eccellenza. Lo dice il presidente Di Antonio. Siamo al basket con il calendario della Serie A2 maschile. Avvio abbordabile. Roseto Sharks ripartirà da Mantova. I biancazzurri sono la squadra più a sud del Girona Est. Via il 7 ottobre. Aumentano a 5. Le retrocessioni. Dunque l'esordio ci sarà sul campo del Mantova. Nella seconda giornata. Roseto riceverà la visita del Cagliari. Vediamo in basso il calendario invece della Serie A2 maschile di pallacanestro. Adriatica presterramo amatori. Il primo derby. E la terza giornata. Subito Chieti. Pescara. E poi la palla a nuoto. A Pescara arriva l'altro Molina. Ingaggiato il centro-brua Francisco. Fratello minore di Guillermo del Prorecco. Questo è il titolo che riguarda la palla a nuoto. E poi la palla a volo. Lavanni dice sì all'altino. Arrizza guiderà il San Gabriele. Andiamo a vedere le pagine di sport del messaggero. Monachello gol. Sarò il bomber. Parla l'attaccante della formazione Biancazzura. Squadra ottima per centrare i play-off. E potremo puntare a qualcosa in più. Roberto Cau. Pilon e Marras. Sono due garanzie. Manuel salta l'uomo. Un bel piede conquista rigori. Può essere devastante. Nelle partite che non si sbloccano. Lo dice Roberto Cau. Ex giocatore di Lanciano Giuliano Vapenne. Sul Mono e Loreto Aprutino. Che da lunedì scorso sta dirigendo la preparazione precampionato. Del Como ancora nel limbo. Tra la Serie D e il ripescaggio. In Serie C. Parliamo del Teramo. Teramo che ottiene un ottimo pareggio nell'amichevole di Cascia con il Benevento di De Grazia. La rete dell'1 a 1. Bastese nuova maglia con la carica dei tifosi. Via ritiro a Colle di Mezzo. Domani il primo allenamento. Ieri la presentazione di mister e squadra a Palazzo Davalos. Tra l'altro vi anticipo che oggi in occasione della prima edizione, delle edizioni, della prima e anche delle altre edizioni del TG6, vi proporremo un servizio proprio sulla presentazione della Bastese ieri a Palazzo Davalos. E poi basket di Serie A2. Sharks al via il 7 ottobre in trasferta a Mantua. E poi Rugby, Unione Rugby-L'Aquila. È un progetto inclusivo per far crescere i giovani. In basso si parla di Serie D. L'Aquila ora l'iscrizione tutta in salita. Dunque c'è preoccupazione in casa rosso-blu. E poi calcio a 5. Alla Civitella arriva il brasiliano Jefferson-Titon. Vediamo anche la pagina dello sport, se riusciamo a recuperarla del quotidiano la città. Eccola qui. Il Teramo non si fa stregare dal Benevento. Primo test molto positivo a Cascia contro una squadra, tra l'altro, ambiziosa di Serie B. Apre il gol di Letizia. Rimedia De Grazia. E poi in basso, Roseto Cup, un weekend di grande sport con tante novità nella città rosetana. Chiudiamo, come sempre, con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello Sport, Leo Muoveleo, Milan Juve, il direttore tecnico in Contramarotta. Bonucci scatena il domino. Dunque Bonucci lascerà il Milan, questo è poco ma sicuro. Vediamo il Corriere dello Sport. Al diavolo, Elliot cancella il Milan di Fassone, non risparmio a nessuno. Via anche Mirabelli, torna Gandini. Gattuso in bilico, Leonardo chiede a Conte di liberarsi in fretta. Mentre Bonucci scappa e dunque potrebbe esserci il clamoroso ribaltone tecnico al Milan con Conte, che potrebbe essere il nuovo allenatore al posto di Gattuso. Gattuso in alto, intanto la Roma furiosa, a volta faccia del brasiliano, ha firmato per il Barcellona. Denuncio Malcom, queste le parole del direttore sportivo Monchi. Vediamo poi in basso, Juve-Celsi, grandi affari e poi Milik-Shaw, strega Napoli. Chiudiamo con tutto sport, Bonucci-Iguain-Shock, Leo vuole tornare a Torino, i tifosi dicono no e Marotta detta le sue condizioni. Possibile scambio con il Pipita. I rossoneri chiedono l'ex Atalantino e dunque potrebbe esserci anche Caldara nella clamorosa operazione Juve-Milan. E poi vedete in alto, Toro e Sharawi costa 16 milioni, occasione Badeli, Milan senza pace, Lombra, abbiamo visto dal Corriere dello Sport, Di Conte, Tormenta-Gattuso. E poi Icardi, Lautaro sì, ma l'Inter balla pari nella gara di Sheffield. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di mercoledì 25 luglio con Mattino 6, che tornerà domani come sempre puntuale alle 8. e ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata. Buona giornata.